Una spina nel fianco dell'altretico Gela, ovvero la vittoria per 1-0 del Macchitella nel derby di ieri grazie alla rete del giovane Dennis, appunto, spina. Una vittoria importante, quella conquistata dai biancorossi, che salgono così a quota 22 punti in classifica, allontanandosi notevolmente dalle zone rosse della gradatoria. Un derby vinto grazie al gruppo e soprattutto grazie alle belle parate di Vincenzo Marino, determinante in almeno tre occasioni. Ma Stigamaro, anzi amarissimo, la formazione gelorossa apparsa ieri sotto tono e con le polveri bagnate. Una sconfitta che pesa come un maccigno nella corsa verso il secondo posto, considerata la contemporanea battuta d'arresto per 1-0 dell'Elicata sul campo del Canicattì. Tre punti mancati che avrebbero significato l'assalto al secondo posto, un sogno realizzabile, ma che adesso con sette lunghezze di svantaggio rimane un miraggio. Anzi, adesso i gerorossi dovranno guardarsi alle spalle con il rientro nei giochi di Canicattì e Ragusa. La cronaca della gara ha visto la partenza bruciante del Macchietella Gela, che ha trovato già al settimo la rete del vantaggio con una spina servito da Parisi, che tutto solo, davanti alla porta dei padroni di casa, l'ha messa dentro riscaldando la partita e l'infreddolito pubblico del Presti. Che non sia stata una giornata positiva per l'attatico Gela, lo si è capito poco dopo, quando Antonio Famà è stato costretto ad uscire dal campo per un infortunio. Allo suo posto è entrato Gianratara. Al ventiseesimo, il Borre Scudera ha sui piedi la palla del pareggio, ma si lascia ipnotizzare dal portiere degli Aquilotti Marino, il quale interviene con i piedi sul tiro dell'ex attaccante Biancorosso. Reazione della Macchietella al trentanovesimo con Caruso, che ci prova sul calcio piazzato, ma la palla termina di poco a lato. Il primo tempo termina con gli Aquilotti di Mister Fauciana, ieri in tribuna per squalifica, in vantaggio per 1-0. Il rientro dagli spogliatoi è una doccia fredda per Acia e compagni, costretti all'inferiorità numerica al quinto per l'espulsione di Zarba, che commette un fallo su Faraci. Al quattordicesimo, contropiede dei Biancorossi con Tuvè, che spara alto sulla traversa. A Tredigo Gela, che reclama un calcio di rigore poco dopo per un fallo del portiere Marino su Scudera. Davide Acia ci prova dalla distanza, ma la palla termina sulla schiena di un difensore del Macchietella, che resiste agli assalti dei Gelo Rossi. Al ventunesimo, ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Sergio Greco, che si becca il cartellino rosso per qualche parolina di troppo all'arbitro. Al ventitresimo, Faraci potrebbe raddoppiare, ma manca l'aggancio di testa. Poco dopo, sale in cattedra l'estremo difensore degli Aquilotti, con un doppio intervento prima sul tiro di Giardizzo e poi sul tentativo ravvicinato di Retucci. Al ventinovesimo, rete annullata ai padroni di casa per un sospetto fuorigioco di Davide Acia. Tensione a fine gara con il tecnico Misiti allontanato dalla panchina. Dopo cinque minuti di recupero, segnati dall'espulsione di Retucci per un fallo su Faraci ed un altro miracolo di Marino sulla punizione di Acia, l'arbitro Leotta Decireale decreta la fine delle ostilità con il Macchitella Gela, che vesteggia la sua prima vittoria in un derby.